musica 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 eccoci qua nuovo video ragazzi oggi nuova avventura con il capo dei pescatori d'abruzzo che bello stiamo per partire nuova avventura andiamo sulle mangianze le canne le ha portate? guarda che cazzo sono? quali sono canne? dai ragazzi cominciamo a fare un po' di chilometri in macchina c'è una breve pausa e poi ripartiamo per il viaggio abbastanza lunghino però butta questo dentro venditore di panini abusivo quanto vuoi? un euro a panino abusivo siamo arrivati a Genova stiamo andando alla camera che abbiamo prenotato questa notte e dormiremo lì almeno domani subito pronti via abbiamo la barca davanti alla casa dato che dato che il medico ci ha mangiato adesso io mi mangio il mio bel panino all'uovo ok 7 del mattino abbiamo raggiunto il nostro Davide andiamo per trote si andiamo a trote eh? oggi stamattina abbiamo raggiunto Davide ehm e anche Fabio adesso ci prepariamo per l'uscita in barca stiamo qui al circolo nautico Iba adesso rifornimento premattina prepartita c'è lo messo distributore automatico che cazzo mi prende da mangiare? i gattini dai cazzo chiedo di fare le riprese dell'alba andiamo 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 allora questa ma sei senza mulinello? no ce l'ho ce l'ho ce l'ho allora monta mi cazzo guarda che quando vediamo i pesci è troppo tardi eh te lo dico io ve lo dico voi dovete tenermi abbiamo semivisto una manganza ma niente si riparte si riparte tutto tutto a gas tutto a gas qua sotto anche qua sotto anche grande Amery grande grande oh come è porca puttana grande Amery come l'accio? eh non lo so no no se va fanno andare eh non è che l'alzi adesso non alzi un cazzo te lo dico io no dico dopo ah dopo si dopo ma tanto c'è tempo vai tranquillo figa bene un smash eh l'ho sfumato mi dico sto già facendo sto già facendo ah beh con ce l'ho provato anche qua ma sei già lì? sei sotto qua eh o forzarla troppo eh dove sei? occhio allora se ti va sotto la barca costa la carne bravo vieni di di qua vieni la barca la barca vieni a sentirla bello così eh sotto la barca vieni di qua ce l'ho qua ce l'ho qua va bene allora porta la canna che cazzo la vende dove la tenda? vieni di qua dove? o stai lì e porta il pesce bella eh cazzo cos'è? palamita palamita si si mangia dalla mangiante dalla zona bella grande grande a cazzo bella bella grande scemo vai che fai paura? adesso mi dice ragazzi tenete? questo le vedo miglia a miglia di distanza le vede che l'ha vio? è che l'ho? che l'ho? che l'ho? che figata no si ce l'ho recupera sempre beh non è come quella di Americo questa però molto più piccola forse si perché la sento leggera non si parte quando è sotto è infatti quello che io ho detto scream and shout qua a funciazzi di qua di noi si è messi qua vieni di qua cos'è un tonnetto? no una palamita parte? non lasciarla oh la madonna questa se la porto su a destra tira su via Mary ok questa è già più bella dell'altra non è che ci voglia anche dritto ma cos'è sta roba? la legge a stella no vabbè ma può diventare molto più grande questa questa la rilasciamo dai fuori i coglioni dai eccole queste sono belle ma vaffanculo come quella che ha preso Americo la prima chi ce l'ha? non l'avevo chi ce l'ha? che puttana eh questo può succedere vero? si non mi sembra grave però ci poter da perché no perché mi viene il mal di mare adesso come mi viene il mal di mare? ok bella? bella? eh via via però viene abbastanza guardi come è? guardi come è? guardi come è? eh scuola no no lo dico perché sennò cadi bella mi senti prendiamo il badino magari sono io che non sono in grado di tirarla a scura no che c'entra? si vedi che bella come piega allora qua c'erano pesci belli sì 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 qua c'erano molti pesci belli si vediamo proprio cacciare che erano grossi con che scream and shout che figo il vento ci porta verso fuori si vabbè fai il giro della barca no? eh dai un tonno? è come la mia dai la vedo è bella eh molto bella mamma che po' la mitona bella cazzo io dentro così ok mano mano destra di lì mano sinistra ok mano sinistra no fermo ok 6 6 mettitela come vuoi accendi è già accesa che cazzo c'è stai riprendendo vai Musica Musica Puttana Eccola 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 Ce l'ha lui Oh me l'ho mangiato dietro E' ciccato in pieno Guarda guarda c'è il piede Questa è un pozzone Occhio e alzo Occhio e alzo È arrivata a galla Tutto è lui oh Dov'è che Eeeh Che cazzo è oh Sta bravo, sta bravo Non uslare, non dare troppo nell'osso cazzo Alvesiamo Abbiamo Grazie a tutti Grazie a tutti Tutti i gabbiani? La 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 In direzione della camera? Sì 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 No non l'hai visti Stai guardando da tutt'altra parte Sì 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 no li vedo Ah ok Li vedo Questa è la più grossa Dove sono? Dove sono? Avanti là dove c'è il gabbiano Dove c'è il gabbiano Madonna tirate su veloci Finito No no è abbastanza stabile mi sembra Spero di non sbagliare Sembra un temporale auto rigenerante Chi è questo? Io Ma l'ho giocato dopo Bella Chi è che mi ha preso qua? Io potrebbe essere Ma ancora l'ho preso no eh? Capra tu No basta Eccole là Le calamite Le calamite Eccolo Sì Albert Con calma Albert Calmissima no calma Spiricare Persa No no Sono spaventata Non lo fanno così Io Dove stai? Tutti qua Poi Sì Mi ha scatito Sì Sì che figo mia adesso alle 10 sappiamo di più non la fermi eh no no quando parte quando parte è una cosa impossibile ci sei? è un ibrido Alberto tu ti piccoli li prendi te comunque non è un big one però bella qui una foto bella me la fai ma giocatelo per dopo il coso possono prendere un gabbiano te ce l'ho fatto l'aerone no no dico le calamite no i tonni ma infatti quando ci sono i tonni i gabbiani ci sono all'inizio poi si levano dal cazzo si levano dal cazzo perché sennò se lo mangiano no non se lo mangiano però mi piace oh raga raga bella là tirate su subito su tutti subito io ci sono quando vuoi siamo tutti questa è la più bella che abbiamo vinto oggi eh buon amore buon amore guarda meno anche a te guarda me lì tu ma dove cazzo sono tirato bello cazzo fai una ripresa qua vai riprendendo mi allontano perché sennò ci siamo troppo sopra guarda come ci vengo indietro non arriva nessuno ragazzi non arriva nessuno oh troia te lo abbiamo dato ce l'ho ce l'ho c'ho non pieta no perfais aspetta 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 ma cosa strima ok ok perfetto no c'è l'ho mica ce la scrima ce l'ha Fabio anche te lo sai incantando? no no io si Davide No, no Che figo Minchia raga E vai nel tuo eh Prende Mita qua Ok, cosa c'era? Porco zio Spettacolo eh Serve Guadino Dov'è tutto? Io ancora un po' ce l'ho qua Eh io ce l'ho sotto ormai Se riusciamo conviene che tipo Te vai dietro così evitiamo di Incasinarci uno con l'altro Perché se si prende i fili A te è enorme Ma non lo so Sarà un tombarello Eh non lo so cos'è Eh quando ti risu te lo dico Io sono sotto eh Ce l'ho sotto da Chi è che arriva prima? Da prima Guarda guarda c'è sto qua Una palamita Palamita? Sì Ma c'è mio cazzo No no tonnella tonnella È una tonnella la mia È una tonnella Guarda va Questa cos'è? Prendo a me è una palamita Ci fa vedere Tonnella tonnella L'ho detto Perché lo hanno rilasciato? Sì Questo è il tonno rosso Vai prendi Eh come faccio prendere Sì Sì Eh che tonno rosso l'ha aggiunto Al pocket ex Stai riprendendo Sì sì vai vai No ma l'ha buccato Io ho buccato la goca Sì questo qua sì Vai molla la veloce questa Ragazzi che bella tonnella Guarda che roba Via Mi lasciamo Ciao ciccia A galla Troppo lontani Belle cazzo Chi è che mi ha lanciato sopra? Eccolo Questa è un bel pesce Perca puttana Sei un bel pesce Guarda guarda come friggono Senti? Miglia si affrigge quello Vai Ma sono passato in mezzo Dai Bella cazzo Bastarda Che cannata che mi ha dato Occhio quando è lanciata Non prende Che cannata che mi ha dato Dai paura Che cannata che mi ha dato Cazzo Oh c'è sul vento Guarda lì Guarda lì Che palle questi Questi patti Oh ma mi piace scrima Anche Davide è grande Hai visto dove è venuto a prenderlo? Qua sotto a galla Qua sotto a galla Cioè una cosa terrina Qua sotto a galla Qua sotto a galla Cioè Ragazza Però allora Pensiamo di prenderci No no Sei tranquillo Vai tranquillo Mamma mia Double shot Ce l'avevi dietro Dici Sì dico Te l'ha saltato davanti No Piccolina Beh piccolina Un tonnetto Sì questa è una tonnetta Questa la devi lasciare Un alletterato forse No un alletterato Ah è un alletterato Beh cosa facciamo Lo liberiamo Arrivo Sto dietro Come un camiccato Eh Fabio Lo sai che non lo stava riprendendo No Lo sono saltato Minchia razza Ecco Troia di merda T'ho preso stavolta Piccolina Fico Pecchegna Si chiama Guè di nome Questa Però tira Dai Eh Ehm 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 Mamma mia Mi sembra di essere Una pentola Pressione Oh Big one Che galla cazzo Vista No T'la matta Mica se bolla Io metto un buttidì Metti buttidì che ti dice niente Ehm Aretini come si è ammessi qua Che ce l'abbiamo qua Verso terra Tanto ormai rilasciano Però volevo fare la foto Sì sì Ma nel senso che se si slama Guarda Eh Ma poi c'è tanto che cazzo No no Eccola Eccola Dai che viene su Mi sta venendo incontro Mi sta venendo incontro Come non detto Vabbè Lasciamo stare Sì dai Guarda piuttosto Una mitina Verso fuori Verso fuori Verso l'esterno Ok Ma è anche più piano Non serve così Non serve così Allora ragazzi La pescata è quasi finita Adesso rientriamo al porto Sistemiamo tutte le cose Labiamo un po' la barca E poi diretti verso casa Bellissima giornata Abbiamo potuto testare le nuove canne Dello sponsor E direi che è andato tutto bene Eh Parlaci di questo sponsor Sponsor è Team Ravesa E andate a vederlo su Facebook E non vi deluderà Ecco Il nostro capitano Vabbè Comunque Siamo divertiti Abbiamo pescato Metal Jig Un po' di pesci Li abbiamo tirati fuori Come avete visto E Alcuni li abbiamo tenuti Senza aprire sui la lingua Ve lo dico Perché Tieni C'hai C'hai il Il coso di Aliexpress Ah Grazie Eh sì Questo cattura Ringraziamo Fabio Davide E Amerigo Che sono stati con me Vi invito Vi invito A Vi invito A andare a cercare Fabio su Instagram Che è un bravo capitano Un bravo pescatore Un bravo uomo E Lupo di mare È un lupo di mare Sì Lupo di mare Inoltre Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Attivate la campanella Delle notifiche Per rimanere connessi E aggiornati per ogni video che farò Seguitemi su Instagram e Facebook Alberto Stream Angler Monte Stream Fish in Italia Ci vediamo nel prossimo video Direttamente dal lago di Como